Sempre guardo te? Guardo in camera. Io sono abituata a guardare la telecamera. Io mi chiamo Elena Marengo, sono direttore commerciale della WebHelp Italia, lavoro in azienda da 20 anni. Sono bilancia, sono ascendente capricorno. Penso di aver preso dalla bilancia l'aspetto della poesia. E dal capricorno, vieni qua che ti rimettiamo sulla terra, metti un po' i piedi per terra. Per me nel lavoro ha valore la divergenza di veduta, il conflitto per me è solo arricchimento. Infatti ogni tanto mi capita di dovermi imporre in modo chiaro, imporre le mie idee. Finito lì, non cambia la relazione. La persona per me ha sempre lo stesso tipo di valore nel mio cuore. Il concetto di client at earth è un concetto molto più profondo del semplice vengono prima i clienti, ma in nome di cosa vengono prima i clienti. Client at earth vuol dire che tu ce l'hai nel cuore il tuo cliente a un punto tale per cui se sta facendo qualcosa di sbagliato tu gli devi dire caro cliente, no, è sbagliato quello che stai dicendo. Non si fa così, bisogna cambiare la direzione perché questo è il vero valore di avere il cliente al cuore. Allora io mi batto internamente in azienda per realizzare qualcosa che reputo di valore realizzare. L'esperienza di 20 anni ti permette velocemente di capire le cose utili e quelle no. E mi batto con le aziende per far capire che quando chiedono cose che non hanno un valore nel loro business, di dirgli no, mi stai sbagliando la richiesta, chiedimi qualcos'altro. Devo dirti quello che rappresenta WebHelp per me. Without any doubt, that's WebHelp.